Ciao ragazzi, io sono Andri e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, finalmente, dopo quasi una settimana dall'uscita al cinema, parliamo di A Quiet Place parte 2. Tra l'altro ho iniziato col botto, dato che questa è stata la mia prima volta al cinema dopo quasi un anno che non ci andavo. Non ho mai parlato di A Quiet Place, del primo film sul canale, se non in un unboxing che ho portato qualche mese fa, ad ottobre se non sbaglio, trovate il link qui nelle schede, perché appunto era arrivato il pop del mostro del primo film, ma quello ovviamente non era una recensione, ho solamente consigliato di vedere la pellicola perché mi era piaciuta molto. Invece questa è ovviamente la recensione di A Quiet Place parte 2. Se mi seguite sapete che questo è uno dei film che attendevo di più nel 2021, infatti lo avevo inserito nella classifica, nella lista, in realtà non classifica, dei film che attendevo di più quest'anno, trovate anche questa qui nelle schede, e finalmente è uscito, sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma l'importante è che è uscito. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a seguirmi su tutti i miei social, link in descrizione, dove trovate anche il link di Pampling, vi ricordo che avete gli ultimi due giorni per poter usare il codice ElPensiero4 e avere il 20% di sconto, perché dall'1 luglio ci saranno altre agevolazioni, ma il 20% di sconto salterà. Quindi affrettatevi, se volete questo sconto, trovate il link di Pampling in descrizione, e vi informo che fra qualche settimana ci sarà un'enorme novità, sia per me che per voi. Non ho ancora detto nulla di che qui su YouTube, però ne ho parlato più volte, e sto facendo diversi spoiler sul canale Telegram I Pensieri. Anche questo lo trovate qui in descrizione, lì appunto pubblico ogni tanto qualche foto senza senso all'apparenza, per spoilerarvi pian piano questo enorme megaprogetto, perché è davvero grandissimo, ed è un cambiamento abbastanza importante per il canale. Ma ora possiamo tranquillamente parlare di A Quiet Place parte 2, magari sussurrando così che i mostri non ci catturino. Allora, a me A Quiet Place... no, sto scherzando ragazzi, parliamo ad un tono di voce intelligente, perché già mi ero seccato. La prima domanda che mi è arrivata dopo aver visto il film è Ti è piaciuto A Quiet Place parte 2? Me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram, vi ringrazio per la domanda, per l'interesse soprattutto. E la mia risposta è un sì. Mi è piaciuto molto, direi. Dura un'ora e trentasette, se non ricordo male anche meno del primo capitolo. Alla regia c'è sempre John Krasinski, mentre nel cast compare solamente per i primi dieci minuti, che non è uno spoiler, sono lo spiegone di quel che è successo nel giorno 1, prima del primo capitolo. Parte che ho adorato e secondo me potevano prendere spunto da quella parte per tutto il film, ma poi ne parliamo. Ma lo stesso nel cast troviamo la moglie, sia nella realtà che nel film di John Krasinski, Emily Blunt. Nonostante il film mi sia piaciuto e anche abbastanza, ho notato un certo cambiamento di stile, sia nella regia che nella fotografia. C'è chi dice anche su YouTube che il primo capitolo in realtà era una sorta di film autoriale. Non l'ho trovato poi così tanto autoriale, secondo i miei gusti, ma sicuramente era molto diverso da questa Quiet Place parte 2. Dicono in tantissimi che questo secondo capitolo è un po' più commerciale del primo, e anche Victor Laszlo88 l'ha detto e sono abbastanza d'accordo. Commerciale però non vuol dire che sia brutto, anche perché la maggior parte dei film che seguo sono commerciali, e tra l'altro, lo ammetto senza nessuna paura, sono quelli che preferisco. Questa recensione ovviamente saranno spoiler, se non magari per una parte finale, ma ne parliamo dopo appunto, con un piccolo disclaimer iniziale. Però penso che farò spoiler dal primo film, quindi se non avete visto nemmeno il primo film che ci fate qui, uscite dal video se non volete ricevere spoiler da quel primo capitolo. Comunque aspettavo tantissimo questo film, infatti mi rattristivo sempre di più quando venivano gli annunci del fatto che venisse rimandato tante volte, perché il primo capitolo era finito in un modo davvero molto aperto, con Emily Blunt che impugna il fucile e capisce come poter uccidere questi mostri, e John Krasinski che si sacrifica per salvare i figli. Scusate se non uso i nomi dei personaggi, ma soprattutto in questo momento, se non lì, che è appunto quello di John Krasinski, non li ricordo i nomi dei personaggi. Diciamo che il primo capitolo l'ho visto solamente per la presenza e la regia di John Krasinski, dato che avevo finito di vedere The Office da qualche giorno, e il personaggio di Jim è stato uno dei miei preferiti. Comunque, nonostante appunto questo secondo capitolo è più commerciale, lo aspettavo tantissimo, per capire anche come andava avanti la storia, e l'inizio, ovviamente parlando della parte nel presente, non quella nel passato, nel giorno 1, mi ha abbastanza convinto. Anche se ci sono delle scelte di alcuni personaggi, ripeto, continuando a citare Victor Laszlo, il personaggio, il bambino, non mi ricordo nemmeno il nome dell'attore in questo momento, fa delle mosse da film horror, quindi mosse stupide all'apparenza, che poi in realtà non sono solo all'apparenza, ma sono nella realtà mosse stupide che una persona non farebbe mai. Ma ripensandoci, queste certe mosse c'erano anche nel primo film, per esempio, attenzione sempre spoiler dal primo, il fatto che del figlio piccolo, che poi muore all'inizio del primo capitolo, non avessero così tanto cura e quindi lo mettevano persino a fine coda, beh, quella era un po' una mossa da film horror, secondo me. Parlando dell'horror in generale, io cerco di convincere i miei amici che non guardano horror che non è il jumpscare che fa l'horror, è l'ambientazione, la tensione, ma sicuramente i jumpscare non fanno l'horror. Certo, ce ne possono stare e in questo secondo capitolo ce ne sono un po' di più in confronto al primo, mossa che non ho adorato poi così tanto, ma non ha inficiato alla mia visione, anzi, a me i jumpscare non fanno saltare in aria, ma mi fanno solamente ridere, sono strano, probabilmente sì, anche perché nella maggior parte dei volte alcuni jumpscare sono prevedibili dall'inizio della scena e per lo più sono stato, per lo più, per lo più del tempo sono stato a dire ah, vabbè, in questa scena ci sarà un jumpscare, sto tranquillo perché non mi spaventerò perché dalla costruzione della scena si capisce quando è in atto quasi un jumpscare. E in questo Acquired Place parte 2 ci sono stati molti jumpscare e molti di questi sono riuscito a sgamarli fin dall'inizio della scena. Quindi penso sia anche un mezzo difetto del film assieme al fatto che ci siano così tanti jumpscare. Ho fatto il rewatch del primo film prima di andare al cinema e per quanto riguarda la CG dei mostri non è cambiata poi così tanto. Io mi aspettavo un avanzamento in un certo senso anche perché ricordavo di quelli del primo film fatto con un budget minore a questo che non erano fatti male ma comunque in certe scene sembravano davvero appoggiati sulla pellicola. In questo non sono nemmeno fatti male ma in altre scene come nel primo capitolo sembrano davvero molto molto finti. Ma questo succede anche nelle produzioni con milioni e milioni di dollari in ballo pensate se non in un film di questo calibro. Ora non ricordo quanto sia il budget di Acquired Place parte 2, sto cercando. Ok, il budget per Acquired Place parte 2 sono 61 milioni di dollari invece per Avengers Endgame dove ci sono anche errori di CG, molti errori di CG sono 356 milioni quindi una differenza davvero molto molto piccola possiamo dire. Quindi per quanto riguarda i mostri questi piccoli problemi di CGI non li conto più così tanto come errori perché appunto c'è un budget molto molto ristretto in confronto ai grandi blockbusteroni. Le interpretazioni dei personaggi principali tra l'altro in questo film a sostituire tra virgolette il personaggio di John Krasinski c'è Cillian Murphy che interpreta Emmett ok questo personaggio lo ricordo il nome del personaggio anche lui molto bravo assieme ad Emily Blunt e i due bambini di cui non ricordo nemmeno i nomi reali quindi mettendo caso il film fosse da buttare le interpretazioni salverebbero tutto perché sono fatte alquanto discretamente per dire che sono fatte bene e anche i dialoghi seppur per lo più recitati con le mani sono abbastanza ben scritti e tra l'altro messi in scena abbastanza bene e parlando del finale sempre senza spoiler vorrei dire che non mi ha convinto del tutto io vedo il finale come una delle parti più importanti ovviamente di un film e questo finale mi ha un po' traumatizzato per il senso sbagliato perché mi sarei aspettato un finale un po' diverso quindi magari anche con una fine in un certo senso anche se un terzo film arriverà sicuramente c'era in ballo l'idea di fare uno spin off non diretto da John Krasinski ma da qualcun altro ma io penso che prima dovrebbero fare un terzo capitolo magari per chiudere la trilogia e fare poi magari uno spin off su qualche personaggio mi piacerebbe tantissimo uno spin off su Cillian Murphy su Emmett il personaggio di Cillian Murphy per scoprire il background della sua storia come è arrivato lì perché soprattutto sta solo dove è finita la sua famiglia sua moglie eccetera eccetera ammetto però che in questo secondo capitolo ci sono diverse cose che devono essere ancora approfondite appunto Emmett ma anche i tizi che rimangono in vita e che diventano pazzi a quanto pare io dal trailer mi immaginavo che i mostri riuscissero a cambiare forma diventando umani una cosa che non mi piaceva dal momento in cui stesso lo dicevo e meno male non è stato così ma quel Cillian Murphy che nel trailer diceva appunto quelli rimasti in vita non sono quelli che sembrano mi faceva immaginare appunto questa trasformazione dei mostri in umani con la possibile comparsa di nuovo di John Krasinski però che interpreta un mostro che interpreta a sua volta il personaggio di John Krasinski spero di essermi fatto capire meno male che non è stato così perché non avrei apprezzato la scelta però avrei apprezzato giusto un po' più di background per questi tizi che impazziscono perché questo sono riuscito a dedurre da quell'unica scena in cui si vedono questi nemici questi tizi impazziti comunque tornando al finale l'ho trovato abbastanza frettoloso molto veloce avrei preferito qualche altra scena in più qualche cosa differente a livello di trama perché l'ho trovato molto simile anche se un po' più sconclusionato al primo capitolo con questo finale aperto che ti fa dire e ora che cosa succede? perché non penso che ammazzando quell'unico mostro o quegli unici mostri il mondo sia salvo quindi c'è abbastanza bisogno di un terzo capitolo o uno spin-off quello che volete fatelo ma ragazzi direi di passare alla parte spoiler come sempre però prima do un voto al prodotto che recensisco ed il voto per A Quiet Place parte 2 è un 8 mi è piaciuto anche tanto però ci sono certe cose che non sono riuscito a digerire più di tanto cose anche non per forza così importanti però 1 più 1 più 1 più 1 più 1 fanno 100.000 quindi tutte queste cose indigeste sommate sono un grande dolore allo stomaco però il film mi è piaciuto tanto da appunto mettergli un 8 ma ora passiamo alla parte spoiler quindi se non avete visto A Quiet Place parte 2 uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto perché gli spoiler iniziano tra 3 2 1 parliamo della parte iniziale ora non ricordo se sono proprio 10 minuti o comunque vabbè in ogni caso è un numero approssimativo in questa scena abbiamo di nuovo John Krasinski e tutta la famigliola messa insieme perché comunque è il day one ambientato nel giorno 1 non era ancora successo nulla e qui vediamo appunto quello che è successo molto prima del primo film qui ancora non c'era il piccolino che muore nel primo film anche se per un momento l'ho scambiato per il bambino che Cillian Murphy si porta in macchina dato che qui si scopre che appunto questo personaggio Emmett è amico di questa famiglia e poi appunto comparirà solamente dopo di nuovo ma in questa scena comunque si scopre quello che era successo i mostri sono in realtà alieni anche se John Krasinski l'aveva già specificato dopo l'uscita del primo film sono atterrati sulla terra grazie a un meteorite almeno quello che sembra essere un meteorite e non si sa bene il motivo per cui sono lì però comunque si sono messi ad ammazzare da subito fin da subito tutti questa scena è molto introduttiva perché comunque non ci dicono nient'altro di quello che già magari potevamo sapere dopo questa scena si passa all'esatto momento in cui è finito il primo film quindi con Emily Blunt col fucile in mano e il figlio piccolo piccolo è cresciuto tempo due minuti perché ovviamente il film è stato girato dopo questo secondo capitolo dal primo e i bambini sono cresciuti ovviamente comunque in questa scena si presenta l'esatto istante dove è finito il primo capitolo successivamente escono dalla casa non so per quale motivo potevano tranquillamente restare lì forse mi sono perso una parte ma potevano tranquillamente restare lì e quando arrivava qualche mostro ucciderlo tranquillamente perché comunque hanno scoperto il modo stordirlo con l'apparecchio acustico della figlia e sparargli in testa però sono usciti forse mi sono appunto perso qualche parte io incontrano lì il personaggio di Cillian Murphy che gli tende una trappola non a loro però loro ci finiscono in mezzo infatti il figlio finisce con una gamba rotta perché va a finire nella morsa di per gli orsi fanno le presentazioni almeno per quanto riguardano i spettatori dato che i personaggi si conoscevano già nel passato e poi inizia tutti gli effetti la trama quindi si dividono Cillian Murphy con la bambina sorda vanno non so dove incontrano appunto i tizi pazzi che i tizi pazzi che fanno casino con loro però finiscono tutti morti quindi ottimo Emily Blunt invece va a trovare la tomba del figlio piccolo dove a quanto pare c'è anche il memoriale per il marito dato che posiziona anche la fede mentre il figlio piccolo relativamente piccolo rimane con il figlio o figlia non ricordo veramente piccola quindi appena nata dentro il bunker cassaforte che che Cillian Murphy ha in casa sua o quello che era non so se è casa sua comunque dove abitava Cillian Murphy comunque ovviamente tutti trovano diversi mostri riescono a sfuggire a non morire la scena che precede il finale è molto molto interessante dove appunto si vedono entrambi poi Emily Blunt torna nel nella cassaforte in non pericolo diciamo comunque la scena che appunto precede il finale è molto interessante con due mostri uno da una parte con Emily Blunt il figlio e uno da Cillian Murphy la bambina che entrambi appunto hanno il coltello dalla parte del manico da quel che sembra fino a quel punto alla fine nella scena finale abbiamo la bambina che come nel primo film leva l'apparecchio acustico lo mette al microfono e quindi fa partire questo ultrasuono che fa impazzire i mostri e nello stesso momento il figlio a casa nel magazzino era collegato alla radio tramite le cuffie e quindi è riuscito anche lui a far impazzire questi mostri anzi questo mostro perché alla fine ce n'era uno solo c'è stato quindi una sorta di stessa scena in due diverse ambientazioni questa scelta mi è piaciuta però non avrei voluto fosse finito realmente così come scena a sé ci sta sono convinto che come scena a sé ci sarebbe stata benissimo probabilmente molto molto aperto e molto ricalcato dal primo capitolo però lì comunque abbiamo una sorta di finale nel primo film qui invece è veramente come non voglio scambiare l'oro con il piombo ma probabilmente questo secondo capitolo è molto associabile a una missione secondaria alla The Mandalorian oltre a presentarci un altro personaggio principale che è appunto quello di Cillian Murphy e a farci capire in qualche modo che c'erano altre persone oltre alla famiglia di John Krasinski per ora questo secondo capitolo non è servito molto a portare avanti la trama continuativa comunque in ogni caso mi è piaciuto molto sarà che non vado al cinema da quasi un anno ma mi è piaciuto davvero tanto ci sono diverse recensioni alcuni lo elogiano a capolavoro altri dicono che comunque è molto molto carino come sto facendo io e altri che schifosamente esagerando dicono che è il peggior film horror mai fatto state scherzando naturalmente no? comunque ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto se avete visto A Quiet Place Part 2 e se vi è piaciuto oppure no perché la recensione di oggi finisce qui se vi è piaciuta lasciate un like iscrivetevi se non siete iscritti seguitemi su tutti i miei social link in descrizione vi ricordo che su Pampling avete solamente due giorni per poter usare il codice il pensiero 4 e avere il 20% di sconto perché dal primo luglio ci saranno altre agevolazioni ma il 20% no e se volete qualche spoiler anticipazione anteprima dall'enorme progetto che sto preparando vi informo che potete trovare tutte queste cose nel canale Telegram i pensieri e trovate appunto il link in descrizione e niente ragazzi io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre sul mio canale Andri passa e chiude ciao iscriviti al canale iscriviti al canale